Tante fabbriche chiuse, tante in difficoltà per un totale in Italia di un miliardo e duecentomila ore di cassa integrazione per le famiglie, stipendi dimezzati e un posto di lavoro perso oppure a rischio. Stefania Barile. Non abbiamo ancora niente, addirittura anche i prepensionamenti rischiano di non andarci. La 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 cassa Guarda come siamo i trotti per difendere un posto di lavoro. Lavoro! 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 Prima di venire a lavorare vengo al presidio ma non cambia molto. Al presidio? Al presidio ammollo. Al presidio ammollo.